Sì mister, grazie intanto perché abbiamo superato la mezzanotte, quindi grazie per l'attesa. Direi subito con lo studio le tre domande perché abbiamo concordato così per consentire al tecnico chiaramente di lasciare la rechi. Subito a voi la linea, Sonia. Giampiero, buonasera, Walter De Maggio. Oh, ciao Walter. Senti Giampiero, io ti conosco bene e so bene cosa chiedi alle tue squadre. A te piace una squadra che faccia frullare la palla? Stasera non l'ho vista quella squadra. De meriti dei tuoi o sono stati bravi Inzaghi e i suoi a non farvi respirare, a non farvi fare partita? Ma quando succede un qualcosa di simile è evidente che ci sono entrambe le cose, ma ripeto bisogna avere anche l'umiltà di sapere chi sei e chi hai di fronte. Oggi noi avevamo di fronte una squadra che oggi ci è superiore, anzi direi che come valori ci è superiore. Questo non significa una critica alla Salernitana, ma un elogio alla qualità, al valore di questa squadra, di questi giocatori. Però, ripeto, al di là del risultato che è venuto attraverso delle situazioni, il primo tempo noi abbiamo subito due o tre situazioni di imbarazzo con palla regalata da noi, nella ripresa eravamo anche ripartiti meglio, abbiamo avuto una palla con Giannetti, abbiamo avuto quella di Alov che se la mette giù e solo davanti al portiere, ma cambiava poco e quelli sono gli episodi. In generale, il commento che ho fatto a caldo è stato che quello che abbiamo fatto in questi 45 giorni, quindi una crescita direi anche abbastanza continua, è stata frutto non delle capacità dei singoli, ma della grande disponibilità, della grande voglia di mettersi in discussione, della grande umiltà di questo gruppo. Ecco, nel momento in cui una di queste componenti un po' si affievolisce è evidente che facciamo un piccolo passo indietro, ma i piccoli passi indietro servono per poi fare grandi passi in avanti nel momento in cui tu riesci a mettere a fuoco il perché. Quindi non è certamente una sconfitta, ripeto, contro una squadra forte che va a intaccare minimamente quello che pensavo alla vigilia. Alla vigilia ho detto che provavo un grande affetto nei confronti di questo gruppo e lo ribadisco pubblicamente. Come devo ringraziare pubblicamente il pubblico della Rechi? Sì, sono venuti in 18.000, ci hanno dato credito, siamo dispiaciuti, la squadra dal punto di vista del risultato è evidente che siamo dispiaciuti, ma io credo che i 18.000 non siano venuti solo perché c'era il derby, ma credo che siano venuti perché hanno percepito in questi 45 giorni di serietà, professionalità, voglia di crescere e voglio tranquillizzarli che non è certamente una sconfitta. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo indietro, ma come ho detto prima, se c'è l'umiltà di mettere a fuoco le cause del piccolo passo indietro, ci dannano la possibilità di fare poi grandi passi in avanti. Pilli e poi Luca, così poi liberiamo il mister. Buonasera mister, abbiamo sentito prima Migliorini di Taccio, due della vecchia guardia. Credo che la sua difficoltà più grande sia quella di scacciare definitivamente i fantasmi dello scorso anno, perché molti dei calciatori, credo che l'ambiente abbia ancora oggi delle ripercussioni per quanto è accaduto l'anno scorso, vero? Sarebbe nella normalità se fosse questo. Quindi nessun problema. Quando io parlo di... Io più volte ho parlato che c'è bisogno di una crescita continua e costante. Ho detto che se noi seminiamo un seme, innaffiamo tutti i giorni, non possiamo pretendere che nasca un platano, ma nasce una fogliolina, poi un alberello e poi alla fine nasce un albero importante. Ma quando parlo di questa crescita non è solo sul piano tecnico, ma è sul piano anche mentale, sul piano psicologico. È evidente che gli ultimi due anni o gli ultimi tre, un po' di strascico, lo devono per forza aver lasciato, sarebbero degli zombie se non avessero uno stato d'animo di questo genere. Ma credo che abbiano già dimostrato che l'unico modo per togliere i fantasmi del passato, se possiamo usare questo termine tra virgolette chiaramente, è attraverso il lavoro, attraverso un miglioramento delle nostre conoscenze, attraverso una convinzione sempre maggiore nelle cose che vengono fatte. Direi che sotto questo aspetto gli ho fatto i complimenti fino a ieri, li faccio anche oggi, non li faccio per la partita di oggi chiaramente, perché avrebbe secondo me potuto essere anche leggermente diversa, ma lo faccio per quello che è stato fatto in questi 45 giorni, 50, non è certamente una partita contro la squadra più forte di noi che mi va a porre un minimo dubbio in me, quindi dobbiamo semplicemente riprendere e cercando di capire, di sfruttare una partita di questo genere, non di sfruttare la sconfitta, ma di sfruttare la prestazione di questa sera per capire dove quello che abbiamo fatto, ma soprattutto quello che avremmo potuto fare e quello che non avremmo dovuto fare. Quindi se c'è la stessa umiltà di quando siamo partiti e mettiamo a fuoco questo, direi che è una partita che potrà diventare estremamente utile. Infatti, mister, buonasera, infatti il prossimo avversario è il Travoli, quindi bisogna già cambiare l'atteggiamento, anche se oggi la squadra ha avuto un atteggiamento supponente, secondo me, e poi dalle sue parole vedo che è più rammaricato per il risultato e non per la prestazione della squadra. Sbaglio? No, sbaglia, sì. Sono molto più rammaricato per la prestazione che non per il risultato, perché il risultato è figlio di valori dell'avversario e di episodi. La prestazione è figlio di quello che noi abbiamo fatto, quindi sono molto più rammaricato per la prestazione che non per il risultato. Giampiero, scusami, un'ultimissima rapida. Grazie al mister. Sì, se è possibile, un'ultimissima. Buonasera a tutti. Giampiero, sono Walter, un'ultimissima. Quando arrivasti al Torino, in Serie B, trovasti un ambiente depresso e portasti tanta gente allo stadio. Il segnale dei 18 mila è perché riconoscono il tuo lavoro. C'è un bel segnale per te? Per me è un segnale importantissimo, è un segnale che hanno tanto, credo, apprezzato la serietà, la professionalità e la voglia di questo gruppo. Quando parlo di questo gruppo parlo chiaramente di tutti noi. Non può essere certamente un risultato negativo contro una squadra che è stata costruita per vincere a intaccare questa convinzione. Quindi, come ho detto prima nella conferenza stampa, li voglio tranquillizzare. Non avevamo la presunzione di vincere tutte le partite, ma avevamo la presunzione di costruire qualcosa di importante e di duratura per la Salernitana. E credo che questo gruppo sia, come posso dire, stia buttando le fondamenta per un qualche cosa che magari, dicevamo le stesse cose di Torino, Walter, le stesse cose quando pareggiavamo con il Cittadella e dicevi dove andiamo. Invece nel giro di tre anni il Torino è passato dalla Serie B all'Europa. Ma non ci sei passato per dei valori in assoluto, ci sei passato attraverso il lavoro, attraverso le conoscenze, attraverso la voglia di mettersi in discussione di ogni singolo elemento, inizialmente da me e dal mio staff e poi da tutti i giocatori. Quindi è semplicemente un percorso che devi fare. Se tu pensi che sono rimasti 4 o 5 giocatori dello scorso anno, che siamo la seconda squadra più giovane del campionato, se la terza del campionato vuoi dominare il campionato battendo una squadra che l'anno scorso ha perso il playoff ed è stata pure rinforzata in maniera importante, è evidente che pecchi di presunzione, quindi con la presunzione non va da nessuna parte. Mentre invece io credo che la presunzione dovrebbe essere una parola completamente bandita da noi e quindi l'analisi va fatta anche in questa direzione.